Se volete acquistare crediti FIFA a basso prezzo andate su FIFAUltimateinCoins.com E con il codice GRAN avrete il 5% di sconto Now, say my name Bella vecchi travali sui GRAN Siamo tornati con un nuovo episodio di... Ma perché un nuovo episodio di che? Siamo tornati con FIFA Siamo tornati con FIFA Perché di solito diciamo un nuovo episodio di Rotto di Vivo ink Questa è inizia Vai col primo, Raing Io me lo sento stai qua Sono magari io non vi modo vuol dire qualcosa perchè il vero il credito di che è solo il peggio c'è il cioi più doppio di cartone da un uomo basta da un uomo cazzo non so se non lo so attivano scatto tutto spandumio a cittadini e forse per 10 pacchetti che fanno un altro del 5 mila che troppi il pesaggio finirà quindi la settembre c'è questo qua di l'ordine pubblica dello si fa cd o il marano non mi sembra che abbiamo trovato lui c'è il pacchetto per lui erano il suo pacchetto avvio non è un problema dentro e non c'è un premio l'atmosfera perchè siamo aprire un altro pacchetto tuoi tempi va bene io solo io acqua di vera acqua di vera un'automobile stavo la stessa cosa è un pochettino e non è un tipo di arlo madonna il giugno a guarda con cui l'uomo a guarderlo un'altra ote! oh! santa! vai, vorrei vedere questo al contrario, hai mai conosciuto il contrario attenzione agabissimo oh! 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 zan zan oh, ma siamo seri? ma no ma no ma fa cadere i giochi vai attenzione attenzione cinque macchetti di mastri non troverò ma perchè è sempre award perchè award porta bene gli lagature ah, non sei lì che attento che te rompi la tiba madonna mia eh, tu dico come consiglio cioè, io non so dire, cioè comunque eh, davamo perchè cioè lo sparbiere qua oh, attenzione, ho sbagliato l'altro è un altro, è un altro si messi anche un messino non farebbe schifo si messi co bozufa che adesso è quello quello che ero più alto che hanno trovato fino adesso c'è no crisman che però scartava ibarra ah, la sborra moja moja che è un po' il bambino c'è c'è quello il 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 questo poi ma cos'è il 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 tutto il 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 gioco il è eseguardo lo è più semplice no 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 e' molto più solo perchè te hai rotto il pago perchè trovavete il cazzo vedo un show a sono troppo il tuo terzo so troppo i contratti infatti giusto perchè ci stanno qua tesori prende la mirante e basta bernardo cinque strade di skill ragazzo vabbè dai dato che mi serve qualche forma fisica io avrò questo e qua che troveremo tutti ronaldo 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 tutti i contratti cambiamo stadio comunque ragazzi se vi è piaciuto questo pacco video diciamo tipo i like purtroppo viagliatore non l'abbiamo trovato purtroppo no e niente adesso basta vi ho detto il cazzo voglio shoppare 3 milioni e' e voglio comprarmi i viagliatore in moto comunque se volete qua in descrizione ci sta il nostro sito ciao bella bella